Ciao ragazzi, un saluto da Franco Moreno e voglio dirvi che stasera alle ore 21 su Instagram in diretta ci sarà un programma spettacolare per tutti quelli che sono muniti di microfono in pianto, basi musicale di Franco Moreno potete venire con me in diretta su Instagram e cantare live e la giuria sarà Oscar Di Maio perché il programma si chiama Oscar Karaoke ci sarà un vincitore, poi vi spiego tutto meglio stasera sintonizzatevi alle 21 di stasera su Instagram con Oscar Karaoke con Franco Moreno e la giuria Oscar Di Maio ci saranno delle votazioni e un vincitore chi vince vince tre cd di Franco Moreno a vostra scelta vi aspettiamo stasera alle ore 21 Oscar Karaoke con Franco Moreno e Oscar Di Maio ciao